Un altro caso di forza conservativa che abbiamo visto era la forza elastica, quindi f uguale a meno kx, la forza di richiamo di una molla, quindi immaginiamo il nostro sistema massa m attaccata solitamente a una molla che è attaccata da una parte a una parete, quindi libera di muoversi senza attrito lungo l'asse delle x, quindi se questo scegliamo, la x uguale a 0 come il punto in cui la nostra molla è in equilibrio, abbiamo visto che ci possiamo calcolare il lavoro fatto dalla forza elastica in un quasi spostamento, per esempio per andare da x con 1 a x con 2 e abbiamo detto che questo lavoro ce lo possiamo ricalcolare, se vogliamo il lavoro sarà uguale all'integrale tra x1 e x2 di f in dx, prendiamo semplicemente il caso f con x in dx, è il caso monodimensionale perché la forza f è solo lungo l'asse del x, uguale a meno kx in dx, integrale tra x con 1 e x con 2, questo se lo risolviamo portiamo il meno k fuori, risolviamo l'integrale definito e lo calcoliamo in x con 2 e in x con 1 verrà un x quadro mezzi che è al quadrato di x con 2 meno x quadro mezzi che è al quadrato di x con 1, ossia meno un mezzo k che moltiplica x con 2 al quadrato meno x con 1 al quadrato, ossia a questo punto questo era il nostro lavoro e abbiamo detto è indipendente dal, quindi questo è uguale a un mezzo kx con 1 al quadrato meno x con 2 al quadrato. Questo e questo lavoro non dipende dal percorso fatto ma dipende semplicemente da configurazione iniziale e configurazione finale, questo è la forza conservativa, questo lo possiamo scrivere direttamente come la nostra differenza delta u di energia potenziale, quindi delta u sarebbe u con 2 meno u con 1, in questo caso abbiamo messo gli indici 1 e 2 invece di a e b, sarà uguale a meno il lavoro per andare da 1 a 2, ossia meno un mezzo k che moltiplica x con 1 al quadrato meno x con 2 al quadrato, se tiriamo dentro il meno, questo risulta essere uguale a un mezzo kx con 2 al quadrato meno un mezzo kx con 1 al quadrato. Quindi la nostra variazione di energia potenziale, che chiameremo energia potenziale elastica, proprio perché è connessa alla presenza di una forza elastica, è data da questa relazione qua. Delta u è uguale un mezzo kx con 2 al quadrato meno un mezzo kx con 1 al quadrato, x con 2 e x con 1 sono la posizione iniziale e la posizione finale rispetto ovviamente alla posizione di equilibrio x con 1 uguale a 0. Anche in questo caso possiamo scrivere u con 2 meno u con 1 uguale a questa relazione qua, un mezzo kx con 2 al quadrato meno un mezzo kx con 1 al quadrato. Se scegliamo arbitrariamente la u con 1, la posizione x con 1 è una posizione di riferimento uguale a 0, quindi quella che scegliamo come riferimento uguale alla posizione di equilibrio e a questa attribuiamo arbitrariamente il valore di energia potenziale uguale a 0, questo si traduce nello scrivere questo sarà 0, questo sarà 0, u con 2 uguale un mezzo kx con 2 al quadrato, ossia l'energia potenziale nella generica posizione x uguale a semplicemente un mezzo k per x al quadrato. Quindi l'energia potenziale del sistema massa molla rispetto alla configurazione di riferimento che è quella in cui la molla è in equilibrio e a cui attribuiamo arbitrariamente il valore di energia potenziale uguale a 0 è pari semplicemente a un mezzo kx quadro, quindi questa è la forma in cui si trova comunemente l'energia potenziale elastica. Questo ovviamente ci possiamo notare subito che questo è sempre maggiore di 0, ossia sia che x è maggiore di 0, sia che x è minore di 0, sia che ci troviamo a destra della posizione di equilibrio, sia che ci troviamo a sinistra della posizione di equilibrio, questa è la nostra molla, sia che ci troviamo da questa parte, sia che ci troviamo da questa parte se questa è la nostra x uguale a 0, l'energia potenziale è sempre positiva, sia che schiacciamo la molla sia che la tiriamo l'energia è sempre positiva. E questo d'altra parte ricordiamoci che l'energia si traduce nella capacità di compiere lavoro, la nostra molla in effetti è capace di compiere lavoro, sia che la tiriamo perché farà tornare indietro la nostra massa, sia che la comprimiamo perché la spingerà di nuovo in avanti e la farà tornare nella posizione di equilibrio. Quindi avere un'energia sempre maggiore di 0 in qualunque posizione significa che il sistema massa-molla è in realtà sempre capace di compiere lavoro. Quindi dato un sistema in cui agiscono delle forze conservative, abbiamo detto che è possibile definire questa energia potenziale, definita come la variazione di energia potenziale U con B meno U con A è uguale a meno il lavoro che facciamo per andare da A a B, ossia meno l'integrale della forza del prodotto scalare di R tra A a B e questo ci permette di ricavare eventualmente l'energia potenziale in un certo configurazione B a partire da U con A meno l'integrale tra A e B di F e R per scalare di R, quindi trovare l'energia in una certa configurazione a partire da configurazione di riferimento e il lavoro fatto per andare da una configurazione dall'altra. Quindi in un certo sistema in cui agiscono forze conservative è possibile definire questa energia potenziale, è possibile anche trovare l'insieme dei punti in cui questo valore di energia potenziale è costante, è uguale a un certo valore fisso. Allora si definisce superficie equipotenziale proprio l'insieme dei punti ad energia potenziale costante, ad energia potenziale più che costante è uguale, uguale. Quindi se prendiamo tutto un insieme di punti in cui il valore di energia potenziale è sempre lo stesso, questo definisce quella che si chiama una superficie equipotenziale, il luogo dei punti dello spazio in cui l'energia potenziale assume sempre lo stesso valore. Ovviamente a valori differenti di energia potenziale corrisponderanno superficie equipotenziali differenti. Se andiamo a vedere ad esempio il caso di energia potenziale gravitazionale, su questo è l'asse x, su questo è l'asse y, sappiamo che la nostra energia potenziale è uguale a mgh, dove h è la quota rispetto al riferimento, supponiamo di scegliere y con y uguale 0 come riferimento, quindi questa è la nostra quota h. Allora tutti i punti che si trovano alla stessa quota h ovviamente hanno la stessa energia potenziale, quindi la nostra superficie equipotenziale non è altro che questa superficie qua, quindi vediamo una sola sezione, cioè la superficie che è parallela al piano, a questo piano qua, praticamente questa è una sezione, è una superficie parallela al piano x, eventualmente z che sarebbe questo, quindi quella di tutti i punti, tirata da tutti i punti che hanno la medesima quota. Se adesso andiamo a vedere come si muove, come si comporta la forza rispetto a una superficie equipotenziale, già in questo esempio possiamo vedere che la forza, che è uguale alla forza peso mg, è perpendicolare rispetto al nostro piano, alla nostra superficie equipotenziale. Che la forza è perpendicolare alla superficie equipotenziale lo abbiamo, d'altra parte, una diretta conseguenza della definizione, in quanto sappiamo che il nostro lavoro dl, lavoro infinitesimo fatto in uno spostamento, sarà f per dr. Allora, se ci muoviamo in una superficie equipotenziale, la nostra energia potenziale non deve cambiare, quindi il nostro dl, che è uguale a meno la variazione infinitesima di energia potenziale, deve essere uguale a zero. Ma l'unico modo per cui questo sia uguale a zero è che questo prodotto scalare sia uguale a zero, ossia che la forza sia proprio ortogonale allo spostamento. Quindi, quando ci muoviamo su una superficie equipotenziale, proprio perché il nostro delta u deve essere uguale a zero, il nostro lavoro deve essere uguale a zero, ossia la forza e lo spostamento devono essere perpendicolari. Quindi questo ci dice che la forza è sempre perpendicolare, la nostra forza f è perpendicolare alla superficie equipotenziale. Possiamo poi cercare di vedere qual è il legame tra forza e energia potenziale, partendo ovviamente dalla definizione stessa. Abbiamo visto che la nostra delta u è uguale a meno l, questo tra a e b. Se andiamo a guardare uno spostamento infinitesimo, il nostro delta u sarà uguale a meno l, ossia uguale a meno f per il nostro spostamento, il prodotto scalare di f per dr. Questo ovviamente significa, se andiamo a vedere lo spostamento, questo spostamento lungo l'asse x, ad esempio lungo l'asse y e lungo l'asse z. Supponiamo di muoverci però solo lungo l'asse x, la variazione di energia potenziale delta u dovuta allo spostamento lungo x sarà uguale a meno f con x per dx. La stessa cosa per la du con y. La variazione dell'energia potenziale solo che si ha uno spostamento lungo l'asse y sarà uguale a meno la componente f di y per dy e la stessa cosa du di z sarà uguale a meno f di z in dz. Questo significa che la nostra, da questo possiamo ricavare che la nostra componente fx sarà meno, sarà all'opposto della variazione della componente dell'energia potenziale lungo l'asse x che interviene quando vada a fare uno spostamento infinitesimo dx. f di y sarà uguale a meno du di y, ossia la variazione dell'energia potenziale dovuta allo spostamento lungo l'asse y di y ed f di z sarà uguale a meno du di z in d z. Quindi questo ci dice che le tre componenti della forza lungo l'asse x, lungo l'asse y lungo l'asse z non sono altro che la variazione della grandezza dell'energia potenziale che è dovuta allo spostamento lungo dx fratto dx. La variazione dovuta allo spostamento lungo di y fratto di y è una variazione dovuta allo spostamento lungo z fratto dz. Ossia questa non è altro che la derivata dell'energia potenziale rispetto alla x, questa è la derivata dell'energia potenziale rispetto alla y e questa è la derivata dell'energia potenziale rispetto alla z. Quindi in altre parole il legame che abbiamo tra forza e energia potenziale è che ogni singola componente, ovviamente stiamo parlando della forza conservativa, della nostra forza conservativa non è altro che la derivata dell'energia potenziale rispetto ovviamente alla variabile, alla componente in questione. Questo si scrive, questo qui, tutte queste tre relazioni si possono riassumere nella scrittura f uguale meno gradiente, grad si scrive di u, dove questo gradiente è proprio un operatore che applicato a uno scalare u, mi restituisce un vettore tale che la mia f con x è proprio uguale a derivata di u in dx, col meno che faccio meno, f y uguale a meno derivata di u in dy e f di z, la stessa cosa, col meno, derivata di u in dz. Quindi il fatto di avere una forza conservativa permette di scrivere la forza proprio come gradiente della u, dove la u è l'energia potenziale che è definita grazie all'esistenza di una forza conservativa, quindi che è legata alla presenza di una forza conservativa. Quindi il legame tra forza e energia potenziale è proprio questo. La f si può esprimere come gradiente dell'energia potenziale, ossia le singole componenti corrispondono alla derivata dell'energia potenziale rispetto alle tre coordinate cambiate di segno, in questo caso proprio perché il legame tra lavoro e energia potenziale è fatto grazie a un segno meno, cioè un segno meno è una definizione.